Direttore, oggi una partita senza storia con il Real Forio, però siamo a inizio stagione, il Rione Terra ha un campionato di eccellenza a disputare, da dove bisognerà partire in vista della stagione 2023-2024? Allora, diciamo che oggi è stata una sconfitta pesante, però magari è stata anche fisiologica perché comunque noi abbiamo fatto una squadra ex novo, siamo partiti in ritardo il 16 agosto, quindi dopo una bella prestazione di domenica al Conte contro la Puteolana, aspettavamo e ci immaginavamo questo calo soprattutto fisico. Ovviamente dobbiamo fare ancora qualcosina sul mercato, però merito al Forio perché è una squadra che ha fame, è una squadra che è stata allestita bene e lotterà sicuramente per le zone alte della classifica. Aspettative per il campionato? No, noi le aspettative nostre di salvarci, magari evitando la lotteria dei play-out, ovviamente sappiamo che sarà un campionato molto ma molto duro, soprattutto quest'anno ci sono squadre ben attrezzate, allestite, però noi proveremo di raggiungere questa salvizza, ovviamente sarà molto ma molto difficile, però ce la proveremo e ce la giocheremo fino alla fine. La giocherete fino alla fine anche con una squadra pienissima di giovani, vedevamo l'età anagrafica di tutta la rosa, tanti duemila e il futuro che bisogna anche cercare di portare avanti. Sì, abbiamo organizzato una linea guida che è praticamente una squadra giovane ma con giocatori anche, come hai detto tu, giustamente duemila che comunque annoverano almeno 120-130 partite almeno in eccellenza. Ovviamente ci manca ancora qualcosina, ultimamente abbiamo fatto degli innesti che ovviamente adesso non sono ancora pronti per giocare e speriamo di arrivare almeno il 10 settembre con 75% di preparazione fisica, per poi arrivare a un top di condizione dove l'unica arma nostra potrebbe essere correre più degli altri. Oggi non si è visto perché comunque c'è stato un caso, un calo fisiologico, però c'è ancora tempo per recuperare gli errori magari e mi prendo tutte le responsabilità che sono state fatte magari sul mercato a luglio, cercheremo di tamponare a qualche piccolo errore.